Con la catastrofe sanitaria, la situazione tragica degli alloggi, delle scuole, è il momento giusto, si può cambiare! Non so perché ho questa smania addosso. Se uno vuole cambiare il mondo come te, è normale che sia smanioso. Allora, Marsiglia, le piace? Poi, sono tutti di sinistra qui. Niente borghesi, niente razzisti, niente fascisti. C'è tutta brava gente. E la festa continua dall'11 aprile al cinema.